Conoscere per scegliere è il tema dell'incontro promosso da Unica, una giornata di orientamento dedicata agli studenti delle ultime classi degli istituti superiori, anche attraverso il racconto delle esperienze di giovani ricercatori e metodologie di coinvolgimento innovative ed interattive con l'utilizzo di smartphone. L'incontro si è aperto con i saluti delle professoresse Valeria Polzonetti e Gabriella Gabrielli, ai quali è seguito l'intervento della dottoressa Anita Montagna, che ha guidato i ragazzi in attività per costruire il proprio futuro. Nel pomeriggio è stata la volta delle testimonianze, delle esperienze, delle ricercatrici e dei ricercatori Unica, Sandra Pucciarelli, Lucia Pavoni, Giuseppe Santini, Giulia Chirimova, Dalia Camilletti. L'incontro è stato realizzato nell'ambito dell'attività del POT, piano di orientamento e tuturato e piano lauree scientifici in biologia e biotecnologia.